Nessuno sconto di pena, a parte quello legato al rito abbreviato per Giovanni Iacone, l'uomo che ieri il giudice del Tribunale di Chieti, Isabella Maria Allieri, ha ritenuto colpevole dell'obicidio di Monia Di Domenico, uccisa nel gennaio dello scorso anno nell'appartamento di via Montesirente a Francavilla al Mare, solo per aver chiesto la vigiona ritrata a quello che si sarebbe poi rivelato il suo assassino. Trent'anni di reclusione per Iacone, il cuorco che dopo aver massacrato la psicologa con una pietra, una scheggia di vetro, tentò anche di occultare il cadavere della donna, trasportandolo in un sottotetto. Un debito irrisorio, 700 euro, quello che scatenò la furia omicida dell'uomo, che avrebbe dovuto versare a Monia Di Domenico, che per una cifra del genere dunque perse la vita. Un movente ricostruito dai carabinieri in breve tempo, grazie anche alle tracce di sangue, e che ieri ha portato alla condanna, dopo che all'uomo era stata riconosciuta la piena capacità di intendere e di volere, al momento dell'uccisione, quando colpì per 16 volte la donna al volto, come ha poi rivelato l'autopsia sul corpo, con un grosso sasso e con il pezzo di vetro che si staccò dal tavolo, proprio in conseguenza della lite. Dunque ha vuoto il tentativo, nella ringa conclusiva dell'avvocato difensore De Amicis, di sottolineare come la consulenza di parte avesse evidenziato un disturbo della personalità dell'uomo. L'accusa, con il pubblico ministero Falasca, ha contestato a Iacone anche l'aggravante della crudeltà, e vinta dai numerosi colpi inferti alla donna. Condanna a 30 anni, che è arrivata dopo un'ora di camera di consiglio, con l'uomo assente dall'aula, è condannato anche a risarcire i danni alle parti civili, ovvero i genitori della vittima, assistiti dall'avvocato Milea.